Ragazzoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser, oggi siamo su Clash of Clans perché è stata rilasciata la nuova sfida, la sfida numero 6 di Alland, cartellino facile, ragazzoli, pure qua c'è la classifica quindi mi raccomando attaccate velocemente perché avete la possibilità di vincere 50, 30 e 15 mila gemme, mi raccomando un pollicione in su per il supporto e iscrivetevi per non perdervi gli altri tutorial. Allora, fida ragazzi che può sembrare semplice però ragazzi attenzione perché qua il tempo vi frega, allora abbiamo un pecca, due super mega incredibili mastini, il re barbaro, 10 di questi cartellini gialli che semplicemente ti tolgono dall'obiettivo quella che è la struttura e una velocità. Allora, guardate che qua è aperto e qua è aperto, quindi ragazzi cosa fate? Voi mettete un bel peccone qua dentro, il barbaro lo mettete davanti alla torre inferno e abilitate perché gli togliete tutto, i due mastini li mettete davanti all'altra torre inferno però con i cartellini togliete uno e una due delle difese aeree perché così i mastini vanno a targhettare solo e esclusivamente la torre inferno. Ora, dovete semplicemente aspettare, io ragazzi personalmente le altre pozioni non le uso più, pozioni tra virgolette perché comunque il cartellino giallo non lo uso più perché mi interessa semplicemente a me togliere quelle che sono il target iniziale delle due difese aeree e adesso ragazzi è tutto un aspettate, 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 molto molto semplice, come vedete qua c'è il pecca che va a dare una mano, un supporto al mastino, mentre da quel lato ragazzi tranquilli perché il re barbaro farà tutto, proprio toglierà tutto quello che c'è da togliere. Se volete potete magari utilizzare i cartellini addosso a determinate strutture che colpiscono anche i cuccioli del mastino come ad esempio le tesla, le torre degli arcieri, le torre dello stregone, magari per velocizzare perché così i cuccioli di mastino una volta che quello esplode vanno a targhettare tutti i cannoni e poi alla fine targhettano esclusivamente le difese che colpiscono anche loro. Il problema qual è? Che ragazzi i cuccioli di mastino hanno una scorreggia di vita, quindi appena vengono targhettati da una tesla o da la torre dello stregone una hit e scoppiano tutti, quindi non so quanto vi possa essere utile. Per quanto riguarda la velocità ragazzi la uso di solito sempre verso la fine semplicemente perché mi secca aspettare, quindi appena il re barbaro si avvicinerà da questo lato gli metto la velocità, lui parte a mille ed è fatto. Ragazzi più veloce di così io sinceramente non so come fare, non so se ci sono altre strategie, lo vedremo poi successivamente con quelli che sono i record che registreranno all'interno della classifica ma già me lo aspetto, uno che finisce tutto questo villaggio incredibile in 40 secondi, cosa che per me è impossibile. Ecco guardate in questo caso appena sta per esplodere il mastino ma non penso ragazzi vada a esplodere quel mastino, quindi niente, no mi è partita la velocità, va bene, va bene comunque perché tanto qua è tutto distrutto, le difese ragazzi sono praticamente livello 1, il nostro re barbaro livello 9, le scoppia, là c'è il pack che va a pulire, ragazzi tre stelle easy, proprio easy, ripeto fate attenzione perché tutte queste mura ragazzi vi fanno perdere parecchio tempo, mi raccomando iscrivetevi se non siete iscritti, un bel pollicione in su per il supporto, abbiamo fatto le tre stelle? Abbiamo fatto le tre stelle. Ragazzoli io vi ricordo che ci diamo tutti i giorni con un nuovo video e una nuova live, ciao!